In Europa solo Erling Brautaland del Manchester City è più decisivo di Walid Kedira, lo dicono i numeri che vanno oltre ogni paragone tecnico e definiscono il peso specifico di ogni gol segnato. Nella top 5 dei campionati continentali, che include Italia, Inghilterra, Spagna, Germania e Francia, il numero 11 del Bari segue solo un extraterrestre dell'area di rigore, come il centravanti norvegese del team allenato da Pep Guardiola, oggi secondo in Premier League alle spalle dell'Arsenal. Al primo posto della speciale classifica c'è appunto Holland, che con i suoi 27 gol ha fruttato ai Citizens ben 17 punti, Kedira ha segnato poco più della metà delle reti del centravanti classe 2015 in campionato, un terzo di quelli della sua squadra, a cui sommare le 5 in Coppa Italia. Ma con i suoi centri ha regalato al Bari ben 15 punti, appena due in meno dell'ex Borussia Dortmund. A completare il podio europeo ci pensa Henry Kane del Tottenham, che ha portato 14 punti nelle casse degli sports di Antonio Conte, con i suoi 18 gol. Andando al di là della categoria frequentata, Ualo, come i tifosi del Bari lo hanno ormai ribattezzato, sta facendo meglio anche di Neymar Messi e Ozymen. Con la sua capacità di attaccare gli spazi in profondità, si è procurato anche quattro rigori da unire ai cinque assist vincenti serviti ai compagni di squadra. E dire che l'attaccante classe 1998 è alla prima stagione in Serie B. La Premier League, che oggi gli fa compagnia su un podio speciale, potrebbe però essere nel suo destino. Su di me ci sono stati diversi interessamenti a gennaio, ha raccontato qualche giorno fa ai microfoni di Sky Sport, ma volevo finire la stagione a Bari per poi valutare il tutto a fine anno. La Premier e il calcio inglese sono un mio sogno. Un giorno mi piacerebbe giocarci, magari in un top club. Il presente dice però che i suoi gol serviranno a coltivare il sogno promozione del Bari, con il Genoa secondo, oggi distante un solo punto. Nella speciale classifica del gol c'è anche Matteo Brunori, che lo segue sulla vetta dei marcatori della B. Il centravanti del Palermo ha messo a segno 13 reti, che hanno regalato ai siciliani ben 13 punti in classifica. Prima di inseguire Holland, Walid dovrà tenere a bada il collega rosa nero, in una sfida nella sfida tra due dei protagonisti di una Serie B mai così avvincente.